e ciao a tutti io sono Kryo e vi do il benvenuto a questo nuovo episodio su Bugs Bunny Lost in Time allora abbiamo detto che tornavamo agli anni 30 per finire al 100% il livello quindi torniamo lì allora medioevo l'età della pietra ovviamente lo troveremo come ultimo e andiamo dobbiamo salire qua sopra se riesco ecco qua pigliamo le ultime due sveglie e tre carote qua il video l'avevamo già visto saltiamolo dai si adesso le raccogliamo raccogliamo anche le carote che ci serviranno ma guarda che bastardo così 41 ma fate un po' furbo va voglio le cavotine anche io volendo possiamo saltarne però vabbè andiamo va non perdiamo troppo tempo riesce da qua? ma no non riesce bastardo ma guarda che sto topo di eh sto topo sto ragno di merda il topo non sono neanche più gli animali ovviamente sto ancora male ma mi sono imbottito di roba forse tossisco di meno qua pigliamo la casacme da prima su cinque mi sembra sì cinque cazzo eh sto giro ha trapassato il terreno fanculo vai ok guardiamo piano piano non c'è fretta amico non c'è fretta 48 eh forse ce la facciamo è arrivare a 99 qua c'è sempre Maxi che ci lancia i barili questo qua me lo prenderò in testa oh bastardo a pezzo di merda allora andiamo di qua allora ma pigliamo queste carote così mi ricarico la mia povera vita 50 qua dobbiamo andare a fare lula ula opli ma cavolo si chiama? cazzo sto per cadere ecco qua salta sullo schienale bene tac 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 qua recuperiamo due o tre carote d'oro vai neanche una l'ho presa ma dove cazzo vai? ma ha fatto da solo porco è un po' bagatello eh sto gioco però porca puttana perché fa così? devo andare su dritto invece è andato storto il checkpoint così se lo rifà ricominciata qua ok sto giro uno l'ha presa due l'ha presa quindi siamo a ma 14 su 15 carote ok pure tossito l'anima dunque se io prendo il letto mi sembra che ci manda al piano di sopra però poi torniamo giù ok ci ha mandato qua dobbiamo prendere questo è così così siamo a lui adesso mi ributto giù qua noi dobbiamo andare di là dunque eh guarda lì che so ah già è vero la casacme lì sopra cretino trentino me la stavo dimenticando vediamo se la prendo subito da ma che cazzo no ma che gioco fatto con le chiappole però eh così perché non me lo prende dai che perdo un po' di tempo per stronzate no ha deciso di no cazzo è a caso un po' più indietro così ma guarda te ho sbagliato tasto così ok ce l'ho fatta sto giro bene dunque stavo pensando eh sì dobbiamo andare di là recuperare l'altra cassa acme così così poi andiamo al piano di sopra così era di no era di qua porco cane sto cambio visuale ecco quella che è di qua spingesse il mobiletto sarebbe anche contento contento ci arriva sì bene quindi siamo a tre giusto no quattro ce ne manca solo più una che la pigliamo sopra dunque io farei che giro facciamo pigliamo di nuovo il letto così ci butta direttamente in là eh potevo farlo prima sto giro ma non ci ho pensato così così lula 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 bene qua usiamo l'abilità che abbiamo imparato del pianoforte già mi devo togliere andiamo a staccarotto la visuale perché non mi ricordo forse ci uccideva qua dobbiamo prendere il resto ho di nuovo tossito come un asino e sono pure caduto poi non so come non so come tossiscono gli asini ma non fai niente allora di qua qua così poi volevi pezzo di merda qua così poi tac 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 poi eh di là non riesco devo passare qua qua però sta qua c'è la carota che ci mancava e l'acme che cazzo l'era no non cadere no non cadere dunque no come cazzo faccio già passare di lì porco vedrete un botto di tagli perché tossisco come non so cosa qua sopra cosa c'è che ah ecco una cassaforte ma di qua non c'erano non me lo ricordo dove è l'ultimo ah qua c'è minchia meno male una sveglia poi ci manca ancora una sveglia e la cassa forse era di qua ma così ma guarda che bugato sto gioco del cristina dunque fammi vedere allora rieccomi qua ho fatto anche un taglio ho sbagliato tasto ho fatto anche un taglio perché c'è una tosse della miseria tossito come un maledetto l'ultima cassa sarà qua per il tempo qua non c'era qua c'è ma coglione cazzo di giro fatto dov'è l'ultima cassa acme forse è ancora il piano di sopra ma scusa può darsi qua ho preso tutto ma c'è ancora sto picciolo adesso perché mi sta sul culo lo sconfigo tolto che una carota guardate si era balgata dietro un culo e scusa dov'è l'ultima cassa acme vero c'è ancora un piano mi sembra quindi ho fatto un giro del cazzo e vabbè ma perché è tornato qua cazzarola oh ce l'ho fatta avrete visto il taglio continuo ad andare avanti indietro però qua scusa ah è qua l'ultima cassa vediamo il mattone ma vaffa culo sto ragno di merda dove è andata la cassa e la cassa cazzo di mattone ma lo prendi ma doi ma dius porco giuda nonna hai rotto il cazzo cazzo di ragno ok sto pezzo qua mamma mia quanti tagli devo fare non perché sono scemo ma perché mi è andata di sfiga oh l'abbiamo preso ah là quindi 6 su 6 15 su 15 5 su 5 facciamo esci dal livello sì tanto ci salva la roba fantastico perfetto hai completato questo livello io mi mangio una caramella magari mi calmo un po' alla conquista viene oh che palle lascia che salvi la tua posizione e salva sì ah là grazie merlo ciao quindi andiamo anche lì ci vediamo merlo dunque duma dove la macchina eccola qua vai allora dimensione x andiamo a fare quella gara stronzissima dov'è che l'ho sbloccato qua forse sì alla conquista del pianeta x sveglia 1 e carote 14 14 eeeh sì 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 il primo che mette la bandiera sulla cima ma io prima raccolgo le carote poi dopo facciamo la gara vabbè che si fa così sulla fine se uno usa del 100% si fa così io prendo anche queste mentre siamo qua al tempo sbattetele nelle palle intanto adesso recuperiamo soltanto le carote queste cose qua ecco non sono riuscito a saltare questo dove mi porta qua sopra quindi così ok mi devo poi ricordare l'ordine di anche sotto così così perché mai più che vinciamo ora credo acqua c'è una carota no ma adesso recuperiamo le 14 carote d'oro perché erano che già è complicato no vedete perché ci sono delle porte tra bocchetto qua forse in mezzo devo andare sì ma faccio dai qua in mezzo vai ok l'ho presa sì ma dopo io che cazzo me lo ricordo l'ordine e guarda lì pietra in testa e dai dunque qua lui è lì sola qua qua no l'ultimo penultimo sì e dammene tutti in testa va qua dieci aspetta non mi rompere i coglioni pigliano la pietra qua ok che ci porta lì quante siamo 10 su 14 qua è la fine del livello qua sotto forse qua proviamo ad andare giù ok qua ce n'era una 11 cazzo qua c'è un'altra qua dentro andiamo qua no ma quale aveva già presa forse qua sotto ok qua c'è un'altra siamo a 13 la quattordicesima del cazzo l'ho lasciata proviamo ad andare vederti qua ma se io passo qua contro mi prendono ok qua non c'è dove cazzo l'ho lasciata eccola qua fa un culo 14 su 14 bene l'abbiamo presa adesso non mi tocca altro che andare su pure indovinato la via giusta e volevo maria qual'era l'ulti penulti non me lo ricordo più qua e l'ultimo eh guarda l'iste cazzo di pietre così adesso poi devo fare la gara e anche lì se failo vi faccio un taglio diretto eh qua adesso la cacchio di svedia non possiamo prenderla perché dobbiamo vincere la gara eh troppo lento vuoi riprovare e mi sa di sì per forza per il 100% questo dobbiamo farlo allora dai primo tentativo vediamo se riesco lui parte sempre in anticipo perché è uno stronzo questo forse sì no non era vero già sbagliato l'ora in mezzo dai banni ma guardatelo ma quale cazzo era primo ma va fa un culo va qua facciamo così poi qua facciamo così vedete così così com'era no era qua sì dai non so se siamo ancora primi o no ho fatto un botto di errore e sono primo non ci credo vai zero tagli ma era una cazzata me lo ricordavo peggio perché l'ha detto in spagnolo tipo portoghese anche lui genial si sono dimenticati il doppiaggio probabilmente fantastico perfetto perfetto che affè salvava no meno male la tosse nella gara mi ha lasciato perdere mi sembra non ho mai tossito allora andiamo la macchina del tempo e facciamo ancora un piccolo mezzo backtracking torniamo un attimo al medioevo e facciamo in parte un livello che abbiamo già fatto però non possiamo ancora farlo tutto perché ci manca l'abilità del ventilatore che sbloccheremo più avanti dove cazzo le medioevo eccolo qua però ci togliamo già praticamente quasi tutto tutto quello che dobbiamo fare allora andiamo qua facciamo questo qua qua sopra ok questo qua mamma mia anche qua abbiamo tagliato direttamente via il pezzettino del video tanto l'abbiamo già visto qua saltiamo qua aspetta dobbiamo prendere cose acme qua non ce n'erano sì che ce n'era vedete no ma è vero non possiamo ancora prenderle per quello che non possiamo finirlo è vero è inutile quindi fate finta di nulla come non detto meno male che mi sono ricordato oh devo passare sulla corda vai vai andiamo qua sopra dobbiamo di nuovo far stordire colpirla lì dai e muori muori staccati bastardo caccio mi pigli per il culo oh non si stacca ok adesso andiamo di là qua e usiamo l'abilità del suono qua eccoci qua aspetta voglio anche prendermi le carote che se riusciamo ad arrivare a 99 forse andiamo a recuperare la carota d'oro dai pirati eh così ce la togliamo via prima che me la dimentico andiamo qua cantiamo sto per tossire per quello che se mi sentite che mi interrompo all'improvviso e per evitare di tossirvi nelle orecchie con lui adesso pigliamo delle carote d'oro la scatola acme e due sveglie in questo pezzettino c'è la scatola acme in realtà non la possiamo prendere tanto non serve un cacchio però io la prendo per sempre le carote non cadere andiamo qua e pigliamo la sveglia poi facciamo coso dell'Ula Oli Oli Ula Hop non mi entrerà mai in testa che poi è una cazzata Oli Oli Ula Hop poi me lo dimentico allora facciamo Oli Oli Ula Hop non ho preso la cazzo di sveglia guardalo Oli son caduto sopra e non me l'ha presa fantastico 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 quanti fail che ho già fatto poi di qua cosa c'era una carota tac tac e tac ok poi dunque dunque adesso dobbiamo ritornare sopra e andare nel buco che c'è sopra nel buco nella porta ecco qua sì qua dobbiamo di nuovo utilizzare quel pirletta lì come uh lì c'è sempre una cazzata ma non ci serve cazzaro la mia emozione per niente comunque dobbiamo usare di nuovo quel brutto signore lì per oltrepassare le sbarre come è già successo in altri livelli eh quanto siamo comunque 11 su 15 eh 31 su 37 dai stancati ma bastardo che te rede ma non si stacca sì ok pigliamo la carota 32 saltiamo di qua poi vediamo un po' qui ecco qua c'è uno scrigno che ci da una sveglia fantastico poi eh qua ci sono delle carote dobbiamo un po' usare le mele per fare una roba e prendere mi sembra una sveglia sì quella sveglia là poi stavo guardando sì qua usiamo quella fontana per prendere quello ma non mi dire 93 94 non ce la faccio qua c'è una mela ci sarà Duffy che ci romperai i maroni ve lo dico già una non basta eh caduta la mela sì 2 le mele qua dobbiamo usarle come contropeso però non basta Cristina così dovrebbe bastare sì allora un altro preso poi se Duffy non ci rompe i maroni eccolo lì va a cagare va usiamo questo per andare a recuperare la carota d'oro 33 trentini ok adesso in teoria non dovrebbe più rompere i maroni perché tanto ok qua abbiamo preso tutto quindi siamo a 33 su 37 13 su 15 3 su 10 ma tanto non possiamo prendere le cose ah beh qua volevo prendere le carote ma non va guardalo che salta male di lupatata niente una l'ho presa vedete la fortuna 0 ma io non capisco devo mettermi in un altro modo tipo così più in mezzo oh e l'altra Christopher non l'ha presa quindi sulla fine con l'altra arriviamo a 14 sì mi sembra che ce ne manca poi giusto una che recupereremo la prossima volta la carota guarda che non l'ha preso perché forse qua no eh non la prendo non riesco a prenderla con questo no aspetta riprovo no è andato stortissimo cazzo di gioco vai di qua non ci fossero ste perdite di tempo il video durerebbe la metà niente devo provare a non toccare e vedere se va eh no se non tocco va a caso porco cane maiale guarda pigliala oh di lupatata ok posso girare non me lo ricordo come facevo tornare di là forse così voglio tornare di là no com'era che tornavo di là così e così no perché ha deciso che devo andare contro quella merdata lì guarda porco ok oh io adesso voglio solo prendere ancora le cinque carote che ci mancano e poi possiamo uscire e andare ancora a prendere la carota d'oro ehm nel tempo dei pirati e poi bom perché qua si sono richiuse le cose si è resettato mi sa ma ogni tanto ho già notato che ricompaiono carote cose strane fa sto gioco ehm qua possiamo ehm torniamo indietro vediamo se avevo lasciato qualche carota di qua altri in nome del re altri in nome del re altri in nome del re si qua ce ne sono si qua bastano 98 9 vai anche in questo caso con la bellezza di 13 su 15 36 su 37 ehm concludiamo questo livello facendo uscita dal livello verremo poi a recuperare le casse acme e l'ultima carota l'ultima carota si lo so posso saltarlo abbiamo sbloccato questo livello il mistero della carota di Stonehenge si quindi questo passaggio qua era obbligato e fare questo mezzo backtracking se no non potevamo andare avanti nella storia adesso andiamo giusto prendere la carota d'oro dei pirati poi torniamo qua e la prossima volta cominciamo poi da quel livello ah la non so che è un po' noioso avanti indietro indietro avanti ma obbligati se uno vuol farlo al 100% deve far così se no può anche giocarselo come vuole allora la carota d'oro era qua eccola qua presa pam 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 dove è finita? eccola qua torniamo al medioevo e ci salutiamo e poi a me tocca editare questo video dove all'inizio veramente ho tossito come un disperato però forse ho fatto più veloce di quel che pensavo ok io direi se trovo cappellino salvo ma non c'è sta posso far salva da qua no? ma porco vabbè speriamo che abbia salvato un saluto da Crio uno da Duffy Duck e al prossimo eh da Duffy Duck da Buzz Bunny mio posto Gesuario Nando e al prossimo video ciao 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 ciao